un occhio si due settimane fatto fatto di là è bellissima ahhh l'abbiamo visto ciao prete El Sarawi ciao Stefan come stai? qua piove su e il sole? qua c'è il sole qua c'è il sole ah ok perchè hai due occhiali? si 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 stanno andando via vado via volevo fare un saluto